Cari studenti, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università di Siena riaffermano che la vocazione dell'Ateneo è quella di costruire per i propri studenti e assieme a loro un ambiente formativo ideale fatto di interazione quotidiana tra docenti e studenti e fra studenti e studenti. Un ambiente caratterizzato da condivisione di luoghi, di spazi e di esperienze, di scambio reciproco e capillare di idee, di sguardi e di percezioni emotive. Pertanto, in previsione dell'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico 2020-2021, l'Università di Siena ribadisce che, salvo diversa evoluzione della situazione epidemiologica locale e nazionale, le lezioni di tutti i corsi di studio riprenderanno in presenza. Gli organi di governo e le strutture tecniche dell'Ateneo stanno organizzando ed implementando tutti gli strumenti necessari a consentire il regolare svolgimento delle lezioni in aula nel rispetto dei criteri di sicurezza e delle misure di prevenzione del contagio in vigore. Le aure saranno periodicamente sanificate e al loro interno sarà garantito il rispetto delle misure di distanziamento fisico previste dalla normativa. A tutti i presenti saranno resi disponibili dispositivi di protezione individuale coerenti con le attività da svolgere. L'orario delle lezioni, sviluppato su sei giorni settimanali, consentirà di utilizzare al meglio gli spazi utili per la didattica in presenza. Allo stesso tempo, e per tutto il tempo necessario, sarà garantito il mantenimento della didattica e dei servizi per gli studenti a distanza, in modo da permettere anche a chi non potrà risiedere a Siena, inclusi gli studenti internazionali, di poter proseguire i propri studi senza interruzioni, qualora, in ragione di un intervento normativo, dovessero essere limitati gli spostamenti. Ciascun corso di insegnamento, almeno del primo semestre, sarà erogato anche in modalità a distanza, sincrona o asincrona, secondo quanto comunicato dal docente responsabile. A tal fine le alue universitarie saranno adeguatamente attrezzate. L'Università di Siena è pronta ad accogliere i propri studenti, vecchi e nuovi, in un quadro ideale, un Ateneo di grande tradizione e prestigio nazionale e internazionale, in grado di offrire servizi di primo ordine, le cui sedi sono immerse in un territorio tra i più belli al mondo, dal punto di vista storico, artistico e ambientale, e in un contesto idoneo a studiare in totale sicurezza.